Oggi prepariamo le ovelle con pasta matta. È una ricetta mantovana tratta da questo libro Il brodo delle feste di Mariella Zanardi Murari. Mentre impastiamo insieme vi racconterò come sono venuta in possesso di questi due libri. È una storia molto bella, storia di donne. Per preparare la pasta matta, che è una sorta di pasta frolla più o meno, abbiamo bisogno di farina, burro, uova, zucchero, estratto di vaniglia, un po' di buccia di limone grattugiata ed il lierito. Per facilità impasto a mano, così ho pure modo di parlare, però voi potrete utilizzare la planetaria o addirittura il mixer e i bimbi, quello che avete a casa. In una ciotola versiamo il burro e lo zucchero ed impastiamo. Versiamo le uova. Lavoriamo sempre poco. Mariella, una cosa, io non lo so se questo è il metodo giusto per impastare, ma io l'ho fatto per raccontare la nostra storia. Allora, io e Mariella ci siamo conosciute in un gruppo Facebook di Amice e Cannella. Io avevo capito che lei comunque era un personaggio molto referenziato, soprattutto quando parlava di dolci. Quindi quando pubblicai, girai il video della torta Barozzi, che è emiliana, e lei mi commentò fantastica con una serie di cuoricini, io mi sentì piena di gioia e mi sentì soprattutto capita nel messaggio che volevo dare. Sbirciai sul suo profilo e vedi che aveva pubblicato due libri, libri che vi ho presentato prima. Allora le mandai un messaggio dove la ringraziavo e dove le dicevo che al più presto avrei acquistato i suoi libri. Torniamo a sti in basso che sennò è una schifizza oggi. Aggiungiamo la vaniglia, aggiungiamo il limone, giriamo un altro po', verso la farina in una ciotola più grande, verso pure il lievito, misceliamo e al centro aggiungiamo il compost. Mariella rispose al mio messaggio con molto affetto, mi ringrazio lei, disse che aveva tanta stima, figuriamoci, e aggiunse che i suoi libri non si trovavano più perché erano finite, nonostante finiti, nonostante fosse alla sesta edizione. Mi chiese l'indirizzo, se mi faceva piacere, me li avrebbe regalati lei. E questo fatto, insomma, voi sapete che io piango sempre, mi commosse perché non è che tutti i giorni uno incontra una persona così. E queste cose, devo dire la verità, mi succedono più spesso, da quando ho deciso di aprirmi, di raccontare, di parlare, perché io il messaggio che voglio dare non è semplicemente la ricetta, il messaggio è di dire facciamo le cose, stiamo insieme, proviamoci sempre e stiamo e aiutiamoci l'un l'altra, questo è il messaggio. Terminiamo a mano e vi dirò, contrariamente a quello che pensavo che veniva un'ottima pasta froca, si vede che è l'amore che rende le cose più belle, più buone, più facili. Pellicoliamo e lasciamo riposare in frigorifero per un oretto o due. Mentre aspettiamo che la pasta frolla riposi, continuo il racconto. Non vi ho detto una delle cose più importanti e cioè che il papa di Mariella, e la ricetta che stiamo facendo, era un famoso pasticciere di Mantova. La pasticceria Ducale, nata nel 1921, dove il papà che si chiamava Carlo, divenne piccolo di bottega a soli 12 anni. A 20 rilevò la pasticceria e la gestì fino al 1991. La trovo una cosa molto bella, che ho voluto raccontare. In questo libro c'è una parte dedicata al papà e tutti noi possiamo pensare al nostro, mentre lei parla di lui. Forse è il personaggio per me più faticoso da raccontare. Di lui voglio dire sempre troppe cose e mi sembra sempre di non dirne abbastanza. Papà è una di quelle persone che vorresti avere sempre vicino e che non puoi fare a meno di amare. Da lui ho imparato a scoprire ogni giorno gli aspetti positivi delle persone, godendoli fino in fondo. Devo a lui il piacere di trasmettere affetto anche attraverso piccoli gesti, piccoli doni ricchi di significato. Lui è la ricchezza del donare, senza volere nulla in cambio. Io ho pensato a papà. Dopo i pensieri dedicati ai nostri papà, torniamo alla ricetta e prepariamo il ripieno. Ci serviranno uova, zucchero a velo, farina, fecola e burro per l'impasto e poi per farcire utilizzeremo anche la marmellata di albicocche. Montiamo le uova con lo zucchero a velo. Aggiungo il burro. Tagliamo un pezzo di pasta e la stendiamo non troppo sottilmente. Prendiamo un cerchietto, un dischetto dentellato, ma va bene anche non dentellato. Stendiamo un velo di marmellata anche lunghi i bordi. Al centro un cucchiaino di crema. Inforniamo a 170-180 gradi il forno già caldo e devono restare piuttosto bianche, quindi usate una modalità che non vi colorisce troppo. Allora, mentre cuociono i nostri dolci leggiamo un altro pezzetto del papà di Mariella che si chiamava Carlo. Nel mio vecchio armadio della cucina sono riposti in fila tutti i suoi vecchi stampi per dolci di cui faceva uso nel suo laboratorio di pasticceria. Di tutte le forme, di tutte le misure, di ogni spessore. Un'eredità preziosissima di cui sono molto fiera. Porto con me ricordi dolcissimi di quando, ancora piccola, papà mi permetteva di entrare nel suo mondo e con tanta pazienza mi insegnava a sistemare delicatamente le mandorle sui piccoli biscottini petit four o a sbriciolare con le mie piccole manine il giallo pan di spagna per rivestire la famosa pappa di Mantova. Papà ha l'orgoglio di avere servito dolci a generazioni di famiglie mantovane che ancora oggi lo ricordano con affetto e grande stima. Allora il dolce aveva un suo preciso significato, di festa, di incontri particolari e gioiosi, di convivialità. Mariella io ho finito, non saranno sicuramente come quelle di tuo papà però mi ha fatto piacere ripercorrere i ricordi insieme a te. Saluto te e tutti quelli che ci stanno guardando con questa frase Io vivo così, con lui, tutto il giorno di tutti i giorni, con la gioia delle sue attenzioni per me e per le persone che ama. Grazie Mariella